Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi faccio un breve tutorial di come creare un server dedicato di casa per poter ostare o meglio ospitare una partita di R-Factor 2. Allora, molto semplicemente prima di cominciare qualsiasi cosa bisogna assolutamente aprire le porte del vostro router in modo tale da poter far comunicare appunto il vostro pc che servirà da server con appunto R-Factor 2 Internet in modo tale che chi si collegherà con voi possa comunicare con voi e che voi stessi possiate vedere il server dedicato che andrete a creare. Come si fa? Bisogna andare nella configurazione del vostro router, io ho fatto un bel zoom rispetto alle porte che ho aperto, vi invito assolutamente a aprire queste porte, quindi bisogna naturalmente attivarlo, mettere l'applicazione o meglio il nome di come volete chiamare l'applicazione, la porta interna ed esterna che volete aprire, quindi sono la 64297 in TCP, la 54297 in TCP e UDP e poi 64298 e 64299 in UDP. Fatto questo, normalmente bisognerebbe applicare e quindi riavviare il router, possiamo avviare R-Factor 2 come ho già fatto qui, l'ho già fatto preventivamente perché altrimenti tra la sincronizzazione del workshop e l'avvio ci metto un pochettino. Prima cosa da fare è creare i pacchetti delle auto e circuiti che vogliamo che il server possa ospitare e quindi creare. Siamo qui nel launcher di R-Factor 2, andiamo su questa icona qui che è il mass utility, quindi normalmente il primo controllo che si fa è andare a vedere la directory del set package che normalmente dovrebbe essere appunto il vostro Steam, Steam Apps Common R-Factor 2 e di conseguenza poi package come è qui. Quindi se è così fate ok, altrimenti andate a selezionare quella che è la directory corretta. Da qui bisogna andare su questa piccola icona, c'è scritto Create Package File, quindi create il package file e qui andate sulla prima selezione possibile Create Nuove Mode Package, ci cliccate su e vi proporrà questa finestra qui. Quindi mod name, mettiamo simdrivers e qui customizzo io lo seleziono ma lo lascio così di default. Infatti come vedete in questa linea qui R-F-M-M-A-S mi propone già il nome che ho messo qui, simdrivers.mas. Quindi faccio next, qui mi dà la selezione di tutti i tracciati che ho installato sul server, quindi mi basta selezionarne uno, due, tre, quanto mi interessa. Mettiamone solo uno, qui il Blackwood DX11A che è la versione e faccio next, quindi seguente. E qui mi chiede di aggiungere i veicoli che mi interessano. Con la certezza che tutto funziona, perché attenzione, il pacchetto che seleziono deve essere assolutamente funzionante, altrimenti poi diventa complicato perché il server si avvia e quindi di conseguenza che possa essere funzionante. Quindi vado a prendere la formula Renault 3005 del 2014, versione 1.6 che so che funziona sicuramente, e faccio next. A questo punto mi propone la possibilità di aggiungere dei componenti da integrare appunto nel server dedicato. Possono essere gli HUD, possono essere dei suoni particolari, insomma, quello che vi propone e poi sta a voi scegliere. Quindi faccio, io non seleziono nulla, metto done. A questo punto, qui, verrebbe automatico selezionare i veicoli, le location, eccetera, eccetera. Non bisogna assolutamente toccare nulla. La mod name è già installata, vi dà la vostra versione. Bisogna solo cliccare su package. Quando vi compare mod packaging complete with no errors, quindi il packaging della mod è completo senza errori, bisogna fare install. Quindi qua vi dice mod installata e questo quadratino da rosso passa a verde, vuol dire che va bene, funziona. Quindi che è installato. E a questo punto fare done, fatto. Chiudo qui e a questo punto posso andare su questa iconcina che è host, quindi ostare, ospitare un server dedicato in casa. Ovviamente ragazzi, quello che andate a creare, spero che lo sappiate, se chiudete il suo computer il server non lo trovate più, è ovvio. Ed è ovvio anche che per poter ostare una partita con un certo ping, o meglio latenza, ritardo, chiamatelo come volete, di un certo livello, bisogna avere comunque, non solo comunque un pc abbastanza performante che possa sia lanciare un server dedicato, ma anche una connessione degna di nota. Consigliatissimo la fibra, perché altrimenti i lag sono paurosi. Quindi che si fa? Seleziona il file del giocatore, player, che poi può essere sicuramente il vostro nome, e qui andiamo a selezionare. Il package o la mod, se preferite, che abbiamo appena creato, simdrivers versione 1.0. Qui potete mettere la password di amministratore. Quindi andiamo alla selezione dei veicoli. Qui, come vedete, il filtro dei veicoli è già presente la Formula 3500 con gli opponenti disponibili. Qui posso scegliere se forzare una visuale, se gli assetti sono fissi, se gli aggiornamenti sono fissi. Poi vado direttamente alla configurazione in cui vado a scegliere il tracciato. Io qua posso, credo, fare la multiselezione in modo tale che ogni volta che finisco una gara passi direttamente all'altra versione del circuito, che in questo caso è Blackwood GP. Qui lì poi ci sarà quella che non cicale, eccetera, eccetera, ma precedentemente avrei potuto selezionare nel mio package altri circuiti e metterli poi in rotazione. In questo caso mi va di lasciare sempre la stessa rotazione e qui molto importante è scegliere comunque il tipo di connessione. In questo caso c'è scritto cable DSL a 250 KBS, tecnicamente io ho una fibra, potrei andare a fare personalizzato, ma lo lascio così perché funziona tranquillamente. Qui poi metto il numero di piloti, che qui è massimo 22, e poi ancora posso decidere di lasciare in sviluppo la possibilità di fare dei trasferimenti delle skin personalizzate. Insomma ragazzi qua sono tutte opzioni che basta andare a leggere e selezionare. Per terminare vado su opzioni e qui anche posso mettere un nome personalizzato del server e indicare anche, in questo caso metto SimDrivers, una password di accesso che naturalmente dovrete comunicare a chi vuole entrare i danni, la IA, eccetera, eccetera. Quindi qui già posso decidere quanta IA massimo posso mettere e quanto minimo ce ne deve essere sul server. Quindi lasciamolo così come ce lo proponiamo di default e vediamo di caricare la pista. Quindi io quando faccio carica la pista, come vedete, mi indica lo heading, la versione build, che in questo caso è la 1.108 in DX11, la versione beta, mi sta dicendo il circuito e l'evento. E di conseguenza quando avrà finito di caricare mi indicherà normalmente i 10 veicoli dell'intelligenza artificiale, i cosiddetti bots, che ho inserito in modo tale che io possa girare con degli amici e in più avere appunto dei bots di intelligenza artificiale che girano insieme a noi. Che io in questo caso non ho toccato, credo che siano anche al 95%. Qui in questa console ho anche la possibilità di comunicare con chi sta nel server con una chat, cioè basta mi metto qua e metto in via nuovo messaggio quando avrà finito il caricamento. Ovviamente ragazzi tutto questo lo sto leggendo, lo vedete anche voi e quindi è facile intuire. Ecco qua, come vedete ci sono 10 veicoli, quindi è ben indicato come intelligenza artificiale, la frequenza dei dati a quanto sta girando, insomma tutto quello che sta succedendo sul server lo vedete qui. Quindi ora per accedere a questo server che devo fare? Devo andare su multiplayer che è questa icona qui con i due caschi e fare la mia ricerca. Metto sim drivers e se ho fatto il bravo me lo ritrovo qui e come vedete players 10 di 23 build, il ping che è 23 millisecondi che sono perfetti, qui non ho messo assolutamente nessun filtro. Quindi basta selezionarlo ragazzi e fare join race e come vedete ha scaricato qualcosa, ciò che dovrebbe succedere per tutti i client, cioè tutti quelli che verranno a giocare insieme a voi su questo server. Cioè andranno a scaricare tutte le impostazioni ed eventualmente quello che manca per poter giocare con voi. Tecnicamente sarebbe meglio che il client, cioè le persone, gli amici che vogliono giocare con voi abbiano esattamente le stesse piste, quindi circuiti installati e le stesse auto, così si evitano trasferimenti dal vostro server, quindi dal vostro pc a loro e anche per evitare eventuali problemucci. Quindi arrivato qui basta selezionare la propria skin, tanto non sia tanta scelta perché abbiamo messo solo quest'auto, fare gara e qui adesso il circuito si sta caricando e tecnicamente io tra qualche secondo dovrei ritrovarmi in pista con i 10 bots e anche devo dire probabilmente qualcun altro perché non ho messo password e qui in live potrebbe entrare qualcuno su questo server qui. Quindi, eccolo qua, come vedete, adesso sta caricando e ci metto un attimino, dovrei ritrovarmi con i bots, vedete qua li sta caricando mano a mano, sono 10, eccoli qua. Quindi se io metto schermo intero, vedete, mi vedo e qui faccio gara e sono all'interno. Ecco qua il server dedicato e come si fa. Quindi ragazzi, ah, ultima cosa, da qui posso anche cambiare la mia auto, vabbè ma per chi usa Rfactor 2 non è un problema. Quindi ragazzi io assolutamente faccio un piccolo riepilogo, ricordate di aprire le porte del vostro router, eventualmente riavviare il vostro router per rendere effettive queste modifiche. L'importante è che ho dimenticato il PC sul quale dovete aprire queste porte NAT, deve essere con un indirizzo IP fisso, perché se no altrimenti il router potrebbe assegnare queste porte aperte su un indirizzo IP che è stato assegnato a un altro PC, perché se avete spento il vostro magari un altro ha preso lo stesso indirizzo. Fatto questo vado a crearmi il pacchetto delle mod di quello che voglio caricare sul mio server, quindi creo un nuovo pacchetto, seleziono le auto, quindi gli do un nome, seleziono il tracciato, le auto, creo il pacchetto, lo installo senza selezionare niente. Lo rifacciamo qua, prendiamone uno a caso, quindi arrivato qui non tocco nulla, faccio installa, se tutto va bene mi do un messaggio installato senza problemi e quindi di conseguenza poi questo diventa verde, questa iconcina diventa verde, faccio don e posso tranquillamente poi avviare la mia applicazione del server dedicato. Dove andrò a selezionare il package che sono andato a installare, prima avevamo messo simdrivers e da qui tutte le opzioni. Quindi alla fine poi basterà lanciare il server dedicato e andare a ricercarlo qui nella sessione multiplayer. Ragazzi spero che questo tutorial vi sia di aiuto, spero che vi sia piaciuto, non esitate a lasciarmi un commento con delle domande se avete difficoltà, non esiterò a rispondervi. Ricordatevi di iscrivervi al canale tanto è gratuito, ricordate anche di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video. Come al solito ci vediamo al prossimo video, da Fabrice è tutto, ciao! Ciao!